Apre tu oggi, io vengo dopo. E tua figlia? È uscita. Quest'anno deve fare gli esami e non sta mai a casa. Devono trovarsi un lavoro pulito e sicuro, sti giovani. Se resta qua, mi indovisco sto con tutta la vita. Qua non c'è il dente. Grazie. I parenti a Torino si sono sistemati. E lì ci stanno le scuole buone. E il lavoro. Ce ne possiamo andare. Gianni mu ha fatto mio fratello. Tuo fratello non ti lasciava mai sola. Quando ti ha vista appena nata, ha detto che eri sua. Papà non ne parla mai. Se le cose non le dici, non ti possono fare male. Nonna, cosa è successo? Niente, gioia mia. Nel sud è niente. E niente succede. Niente, gioia mia.